Mister, 71 minuti per vincere, per trovare il gol, se l'aspettava così dura qui a Santa Lucia? Beh, diciamo pure più di 100 minuti, 71 per trovare il vantaggio, ma per vincere sapevamo che sarebbe stata dura. Io non solo me l'aspettavo, ma noi storicamente è la prima volta che vinciamo con Santa Lucia, tra la prima categoria, tra la promozione di due anni fa e quest'anno tra la Coppa, quindi sapevamo che sarebbe stato molto molto difficile perché è una squadra, quella avversaria, che non molla mai e sono molto molto contento insomma della prestazione dei ragazzi. Sì, non è stata una bellissima prestazione quella vostra quest'oggi, ho visto che già fin dall'inizio hai cercato di dire, di raccomandare la marcatura a centrocampo su Bet perché probabilmente il gioco partiva da là, no? Sì, diciamo che noi in questo momento qui dobbiamo pensare a vincere, quindi da un punto di vista anche magari del gioco abbiamo fatto un po' meno bene rispetto a domenica scorsa, il campo non aiutava nessuna delle due squadre, c'è da dirlo purtroppo, però rispetto per noi era troppo importante oggi vincere. Bet era un avversario che temevamo per la qualità che può dare al Santa Lucia e quindi avevamo preparato di non farlo giocare e i primi minuti abbiamo un po' fatto fatica. Ma Stellotto un po' da solo davanti, avesse avuto forse un pochino di aiuto in più, forse qualche cosa avrebbe inventato? Sì, lì probabilmente è un po' colpa mia perché anche lì l'avevamo preparata con Fiavane e Pai e Riacobo che dovevano stare un po' più tra le linee proprio per sfruttare gli spazi dietro il centrocampo e quindi ogni tanto l'abbiamo lasciato un po' magari da solo, però Mast è un giocatore che sa far reparto e quindi ha fatto una buona partita. Dicono che i fuori quota facciano la differenza, i vostri due esterni sono bene, hanno fatto bene anche oggi? Sì, ma noi abbiamo anche oggi giocato comunque con quattro fuori quota, spesso lo facciamo, delle volte anche con cinque. Sappiamo di avere un gruppo di ragazzi importanti da un punto di vista soprattutto umano, Maset, Dalpaos, Marcon, Fiavane stesso, Apoker stanno facendo tutti, anche gli altri, De Poloni, De Toffo stanno facendo tutti un buon campionato, ogni tanto riesco ad alternarli, adesso speriamo di recuperare qualcuno perché è ancora lunga. Mi stai in bocca al lupo, finisco con una battuta, ma cosa hai detto a Bet quando è uscito? Per fortuna sei uscito. Sì, gli ho detto bravo Davide, forte come sempre, è uscito lui, abbiamo fatto gol, quindi è andata bene. Grazie, grazie a voi.